Qui con Rocca, da poco finito il match contro il Chisola, oggi una sconfitta, ma che gol tu oggi? Grandissimo, ce lo racconti? Ma sì, semplicemente è andata bene, era uscita una palla che abbiamo buttato in area, io fortunatamente l'ho colpita per metterla in mezzo e non si è ben capito cosa è successo in area, è riuscito a entrare in questo pallone, sono contento del gol, un po' meno per il risultato, perché poi abbiamo fatto una buona prestazione contro un'ottima squadra, loro stanno cercando di arrivare primi in classifica e noi diciamo che volevamo ancora agganciarci a quel treno che ci portasse tra le prime cinque, non ci siamo riusciti, di certo abbiamo fatto la prestazione che dovevamo fare, però diciamo che siamo relativamente contenti. Una buona prestazione, comunque contro una grandissima squadra, obiettivo quinto posto, ancora troppo lontano? Sì, lo reputo oramai difficile da raggiungere, non so se matematicamente oramai credo che sia impossibile raggiungerlo, però diciamo che siamo contenti dell'anno, ora non è ancora finito perché mancano tre partite, di certo onoreremo queste tre partite fino alla fine, cercando sempre di vincere, ci aspetterà il derby col Cuneo e ci aspetteranno altre due gare importanti, è l'ora comunque di continuare a far bene, anche perché è stata una stagione importante, potevamo prendere qualcosa in più perché reputo ancora ora che non ci mancava nulla per arrivare tra le prime cinque, purtroppo però nei sconti di reti c'è sempre mancato qualcosa e è andata così, però siamo cresciuti e reputo una stagione di crescita da parte di tutti. Un bilancio tutto sommato positivo, prossima partita contro il Cuneo, cosa ti aspetti? Un derby infuocato? Un derby che sulla carta loro dovranno comunque magari cercare di agganciarsi al primo posto, ora ho visto che hanno perso con l'Aqui 2-1, non so se la matema di permettere ancora di arrivare e raggiungere il primo posto, ovvio che sarà una gara che è un derby e quindi si giocherà fino alla fine, sarà un derby tosto, però incontreremo una squadra difficile e lotteremo fino alla fine per ottenere la vittoria perché ogni derby bisogna giocarlo per vincere, sono di quella idea. Grazie, in bocca al lupo per le prossime.